MWLINE MWLINE nasce da un sogno ambizioso, offrire al mercato nuove soluzioni. Per questo da sempre siamo impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Un team di professionalisti tecnici attenti alle esigenze di mercato, in grado di anticipare le tendenze con soluzioni e sistemi innovativi, funzionali e di design. MWLINE è una società che nel corso dei 25 anni, nella sua storia, è sempre cresciuta, tanto da aver raggiunto livelli di leadership sul mercato di riferimento. È un'azienda che ha delle peculiarità, che gli vengono anche riconosciute dalla clientela, vale a dire qualità del prodotto, tecnologia, innovazione, organizzazione, puntualità, serietà. In questa organizzazione ovviamente vi è anche l'area della finanza, che è un'area che opera in simbiosi, in sinergia con le altre funzioni aziendali con lo scopo di continuare a creare valore, così come non si è fatto sino ad ora e continuare nel tempo. La flessibilità, dinamicità ed etica sono alcuni dei punti cardine che ci hanno portato nel tempo ad una crescita continua. Questo grazie anche all'impegno profuso ed al lavoro svolto di tutto il team MWLINE. Quello che ci contraddistingue oggi nel mercato sono la gamma prodotti, il servizio e non da meno la capacità di ascoltare ogni singola richiesta ed consiglio dell'installatore, che è in continua evoluzione grazie ad un utilizzatore finale sempre più esigente. Le mire future sono quelle di continuare a crescere con chi ha creduto in noi e estendere in tutto il mondo la nostra esperienza, conoscenza e capacità acquisita in Italia ed in Europa in questi primi vent'anni di attività. Riconosco che è un obiettivo importante ed ambizioso, ma è giusto crederci, perché abbiamo a mio avviso tutte le potenzialità per poter raggiungere questo traguardo. Grazie a tutti. La nostra è una sfida. Cerchiamo sempre di offrire il prodotto che non c'è, il prodotto impossibile da realizzare. Noi lo realizziamo grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, tanta tanta sperimentazione. Il risultato è un prodotto che ha delle altissime performance in termini di usabilità, tecnologia. La comunicazione è un elemento fondamentale per la crescita dell'azienda. Abbiamo il compito di porci, dinanzi a due interlocutori molto differenti fra di loro, come il privato, il consumatore finale e l'addetto ai lavori, portando un messaggio che, pur essendo diverso, ha comunque degli elementi in comune, quello della chiarezza, dell'efficacia. Però c'è un elemento in comune che è molto importante, che abbiamo a trasmettere. Quel senso artigianale nelle cose che facciamo, la cura nelle cose, il calore che viene trasmesso, per noi è importante sottolinearlo, anche perché, secondo me, questo rappresenta l'elemento distintivo che ci rende un'azienda che fa dei prodotti di qualità, quindi azienda made in Italy, proprio perché c'è una cura molto elevata, pur dinanzi a dei processi di automazione che sono molto elevati nella produzione dei nostri in comune. Grazie a tutti! Grazie!